Nel 1982, a essere precisi, il 2 febbraio 1982, alle 11 e mezza di sera, mi sono trovato in una situazione dove la mia scelta era abbastanza facile, perché o cambiavo o morivo. Ero stato catturato dal demone della depressione, ormai per mesi, stavo parlando con qualcuno un attimo fa, e stavo dicendo che nel momento in cui più ne avevo bisogno, il mio migliore amico mi ha abbandonato. E quando ti senti dire che il tuo nome non dovrebbe essere Mario Magiona, perché porti sfortuna a tutti, e quando hai 160 mila euro di debiti nel 1982, e quando c'è un demone formato a anguglia, dietro l'orecchio sinistro che ti sta mangiando il cervello e ti sta dicendo che intanto non serve a niente, quando hai vissuto una vita che non hai mai creduto in niente, hai sempre, io sono cresciuto da buon cattolico italiano con un Dio che non ride, con un Dio che non sorride neanche, con un Dio che è distante, indifferente, un po' vendicativo, con un Dio che mi dava sempre l'idea che se mi azzardassi a divertirmi sarebbe partita la manganellata dal cielo, perché alla presenza del Signore c'è pienezza di tristezza, giusto? E' vero? E non credo, credo che la parola di Dio dica che nella presenza del Signore c'è pienezza di gioia, eppure io sono cresciuto con quest'idea, probabilmente tanti di voi non avete mai incontrato un Dio che sorrideva, non avete mai incontrato un Dio che ti abbracciava, anche perché probabilmente i nostri padri non ci hanno sorriso, i nostri padri non ci hanno abbracciato, i nostri padri non ci hanno mai detto sono fiero di te, e io sono cresciuto con, in un certo senso una maledizione, perché ricordati che come la benedizione eulogheo, eu vuol dire bene, logos vuol dire parola, eulogheo è una buona parola, quindi una benedizione non è altro che un complimento, un incoraggiamento, un sono fiero di te, un guarda che bello che hai fatto, guarda come hai fatto bene, la maledizione è l'opposto, la maledizione è una cattiva parola, quindi quando un padre dice ma non sei capace a fare niente, ma è possibile che spacchi sempre tutto, ma sei uno scemo, non riuscirai a mai fare niente, purtroppo ti carichi una maledizione che te la porti dietro per il resto della vita, e se non interviene qualcosa di più potente, purtroppo quella maledizione ti rimane per tutta la vita, e quando arrivi sulla soglia di un qualcosa che vuoi ottenere, un qualcosa che stai lottando per fare, un qualcosa che ti chiama e che hai bisogno di avere successo, hai bisogno di, ti ricordi le parole di tuo padre che dicono non sei capace a fare niente, allora fai un passo indietro, un po' un po' timoroso, che chissà magari ha ragione papà, che magari non riuscirò mai a fare niente, quando lasci che quel tipo di pensiero ti guidi, pensate a quello che è successo a Paolo, a Pietro, quando Gesù gli ha detto, Pietro prima che il gallo canti ne avrai rinnegato tre volte, e quella mattina il gallo cantò e Pietro lo rinnegò, vi rendete conto che per il resto della sua vita, ogni volta che un gallo cantava, Pietro si ricordava del suo fallimento, che tipo di gallo avete voi nella vostra vita, che vi ricorda che avete fallito, cos'è la canzone che suonavano con la tua ragazza prima che ti abbandonasse, cos'è il vicino che compra una macchina nuova mentre tu, la tua te l'hanno ripossessata, cos'è quel gallo che ti dice sei un fallimento, sei un fallito, io ho avuto un caro amico Antonello che mi ha aperto gli occhi al significato della parola peccato, io lo conoscevo come mancare il bersaglio, però Antonello mi ha raffinato questa definizione con la parola fallimento, il peccato è un fallito, perché Dio ha un bersaglio per ognuno di noi che si chiama vita, che si chiama vita abbondante, e se tu manchi quel bersaglio sei un fallito, o potrai avere milioni di euro, potrai avere miliardi di euro, ma se manchi il bersaglio per cui Dio ti ha creato, sei un fallito, hai fallito lo scopo della tua vita, e quando tu cresci con questo modo di pensare, ti trovi solo, nonostante io avessi, ho la donna più bella del mondo, più cara, più gentile, più gloriosa, più sexy, più deliziosa che esista in questo mondo, che è mia moglie, ne sono innamorato da 50 anni, e lei chiaramente, giustamente innamorata di me, nonostante quello, io mi sono trovato da solo, perché quando sei con te stesso e pensi di essere un fallito, sei solo, non c'è nessuno che dice, no guarda che papà ti aveva tolto, non è vero, non sei un fallito, dai ce la puoi fare, dai che ce la puoi fare, e la depressione è una cosa che ti distrugge perché ti toglie la voglia di reagire, ti toglie le pile dal giocattolino, il giocattolino non funziona più perché non c'ha le pile, è inutile che lo fai andare, non c'è dentro niente che lo possa fare andare, il giocattolino non è finito, quando ti trovi in quella situazione, tutto quello che vuoi fare è cercare l'interruttore della tua vita dove puoi spegnere, e in qualche modo fermare il dolore, perché purtroppo in inglese si dice life sucks, questa vita puzza, è triste, è dura, e allora il 2 febbraio 1982 con quel demone sulla spalla sinistra che mi stava mangiando il cervello e stava cercando di convincermi, di uccidermi, avevo già deciso di farlo un giorno dopo, mi sono trovato per caso in una chiesa strana, io ero abituato alle chiese dove le persone erano tutte miserabili, tutta tristi, tutta buca, alleluia, 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 vieni con me dal Signore, ma va a tempo, sarei felice come sono io, e quindi mi sono trovato per caso, per sbaglio in questa chiesa dove le persone eridevano, saltavano, ballavano, e io immediatamente, siccome quando hai fallito, tutti gli altri che invece sembra che abbiano avuto successo, li odi in maniera intensa, perché come ti permetti di ridere, io sono qui che sto morendo, voi non ho schiavo, ti faccio ridere io, però vedi c'è una cosa strana che si chiama seme, la parola di Dio Gesù lo chiama seme, e il seme non ha alcun interesse a chi sei, al seme non gli importa niente a chi sei, tu prova a seminare un fagiolino, che tu sia maschio o femmina, che tu sia povero o ricco, che tu sia giovane o vecchio, che tu sia bello o brutto, che tu sia italiano o brasiliano, semini seme e seme, cresce, non solo, ma se semini un fagiolino non credi che cresca, cosa fa? Cresce lo stesso, perché al seme non interessa quello che crede o non crede, la vita è nel seme, non in te. Ecco perché Gesù dice, il seminatore ha seminato dove c'erano le pietre, e adesso ho sempre chiesto, poi non è vista le pietre, scusa, poi seminato dove c'era un erbace, ma non ho capito, c'era l'erbace? Sì, perché non dipende da te, e non dipende neanche dal terreno, dipende dal seme, il seme è caduto tra le pietre, nell'erbace, sotto il sole, e ha cominciato a crescere. Poi dopo avvengono determinate cose per le quali soltanto uno dei quattro semi ha portato frutto. Ma quella sera lì, quel seme, pur mettendomi nella situazione di voler litigare con il predicatore, perché io lo conoscevo da prima che lui diventasse cristiano, ed era un alliberatore clandestino, libanese, e io vado a dire, ma brutto ipocrita che non sei altro, cosa stai dicendo, cosa stai dicendo di Dio, di Gesù, di Giuseppe, di Maria, di Liba, cosa stai dicendo? Ma non sai, e lui mi fa, dice Mario non ti arrabbiare, io non ho problemi, sei tu quello con i problemi? E mi fa, dice, perché non chiedi a Gesù di aiutarti? E io gli dico, sì, hai il numero di telefono? Cosa devo fare? No, 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 scusa, tu bestemi? E dico, sì. E quando bestemi pensi che Dio ti sente? E io gli dico, spero di sì. E allora perché non dovrebbe sentirti se gli parli normalmente? E io ho reagito come reagivo sempre a quei tempi, sono scappato. Però il seme è stato seminato, sono tornato a casa, undici e mezza di sera, mi voglio stare a dormire, entro nel bagno e mi guardo allo specchio, se avete l'occasione sul mio sito, ilsuovillagio.com, dove c'è il sito Un Miracolo, troverete la mia fotografia di quando avevo 35 anni. Adesso sono bello, giovane, aiutante, eccetera, ma quando avevo 35 anni ero l'immagine della morte, ero verde, con le occhiaie nere qua, ero l'immagine della morte, vi assicuro, ero marcio dentro e fuori. Mi guardo allo specchio e vedo quello che sono diventato. E penso, sei proprio stupido, sei qui nel bagno da suo a parlare con te stesso allo specchio. Però quando sei attaccato a un capio che si sta stringendo lentamente e che sai che se non succede qualcosa sei morto. Io seguivo tutto, seguivo Buddha, seguivo Confucio, seguivo... non ho momento perché lui crede a un Dio che era là e io voglio un Dio che era là. Quindi il momento lo lasciamo stare. Ma io facevo le sedute spiritistiche, vedevo i demoni, vedevo manifestarsi i demoni, era una cosa, non avete idea, c'erano i demoni attaccati all'uomo dell'orecchio, sull'intesta, a tutto parte. E in quel momento nel mio libro il manuale che non c'è qui, c'è tutta la storia del... ah però è qui, è in questo... questo qui che adesso vi spiego cos'è, ma c'è un cd, c'è un cd di quattro ore, più di quattro ore di narrazione del mio libro, della mia storia, di quello che è successo. E in quel momento io ho fatto una preghiera che il 99% delle chiese evangeliche mondiali non avrebbe valutato valida per la soldezza. Perché ho detto Dio non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami. Perché da solo non ce la faccio. E vedi adesso lo posso dire, è strano che non mi commuovo, perché di solito a distanza di quasi 40 anni ancora mi commuovo, perché vedi l'amore non muore mai. Il vero amore non muore mai. E quando tu ti innamori di un Dio che è vero, reale, non è una dottrina, non è un libro, la Bibbia non è Dio. La parola di Dio è Dio, è Cristo, Giovanni 1, la parola di Dio è Cristo, Cristo è Dio. La parola non si è fatta a carta, si è fatta carne. E adesso voi non lo vedete, ma dietro di me c'è un angelo che si chiama Big Big, Big Brother, che è più o meno di questa altezza, più o meno, che se vazzardate a venire vicino con uno sguardo un po' strano, non vi garantisco la vostra sicurezza. Perché il mio signore mi ama, mi ama disperatamente, mi ama dal punto che un giorno il diavolo gli ha detto ma hai visto cosa ha fatto sto disgraziato? Ma ti bestemga, racconta le barzellette sporche su di te, ti pide in giro quando sei sulla croce, ti dici ne falli tutte di più, è un giocatore d'azzardo, vabbè, altre cose, ma come ti permetti? E Gesù deve, scusa, cosa deve fare? E deve pagare, deve pagare con la morte, perché il salario del peccato è la morte. E Gesù ha detto sì, sì, non ti preoccupare, pago io. E vedi, nel tribunale di Dio, quante volte quando io parlo da Dio per grazia mi dica, sì, ma Dio è buono, ma è anche giusto. Io ti faccio una domanda, che Dio giusto sarebbe se dopo che Cristo ha pagato per il mio debito facesse pagare me una seconda volta. La giustizia di Dio è basata sul sangue che Cristo ha versato per me. Ecco perché Dio è giusto, perché il debito è stato pagato. Paolo dice, non sono più io che vivo, sono stato crucifisso in Cristo e la vita che io vivo, la vivo per fede nel figlio di Dio. Ricordatevi una cosa, che il fatto che Gesù, che Dio ha perdonato i vostri peccati è solo metà del Vangelo. Dio ha perdonato i vostri peccati, senz'altro, ma quello è solo metà del Vangelo. L'altra metà è che siamo morti, sepolti, risorti in Cristo. E adesso viviamo la vita di Cristo in noi. Quando Giuseppe ha accennato a Giovanni 3,16, la vita eterna, chi crede riceve la vita eterna, cosa vuol dire eterno? Chi è che mi sa dare una definizione di eterno? Non voi perché ve l'ho già detto. Chi è che ha detto non ha inizio e non ha fine? Non ha inizio e non ha fine, perché l'eternità se dovesse iniziare prima dell'inizio non sarebbe eternità. Quindi l'eternità, la vita eterna, non ha inizio e non ha fine. Chi è l'unico essere al mondo, nell'universo, che non ha inizio e non ha fine? È Dio. Quindi quale vita ricevi quando ricevi la vita eterna? La vita di Dio, la sua, ecco perché non la puoi perdere. Ecco perché io mi arrabbio quando le persone dicono, sì, ma se ti comporti male, allora Dio si ripide la vita eterna. E allora non è eterna, allora è temporanea. E allora non mi venire a dire che se credo in te mi dai la vita eterna. Dimmi, se credi in me ti do la vita temporanea, basta che continui a meritartela. E invece io no. Dio dice, ti do la vita eterna. E l'unica vita che è eterna, è la sua. Quindi in te vive Cristo. Ecco l'altra metà dell'unica. Ed è quello che ti guida. Non la carta. La carta. Lo spirito di Dio che ti guida e ti dice, seguimi. Mamma, io vorrei... No, lascia stare. Non sono cose per te. Non sei stato fatto per... per... Rustica, non rustica. Scusate, cosa fanno i polli? Rassolano, rassolano, rassolano. Come i pascori che rassolano male e poi vengono bene. Sono quelli di Sassari. Mi stanno ascoltando. Scusate, ho quelli di New York. Cosa ho detto io? Dall'altra parte dell'uscita. Quindi, è quella la chiave di tutto. La chiave di tutto è il fatto che la tua vita è in Cristo. Ed è Lui che ti guida e ti dice, vieni con me. Vieni con me. Dai, ti porto dove ti ho creato per andare. E quindi quella sera lì ho fatto con la preghiera. E... Dite che ha funzionato? 2 febbraio 1982. Oggi sono felice, soddisfatto. Questo è un libretto con scritto, che si chiama Dedicato a Te, che fa parte di questa confezione con il manuale, l'audiolibro di più di 4 ore di narrazione, dedicato a Te. Ed è un libro molto semplice, un libretto molto semplice, che parla dell'amore di Dio in maniera molto semplice e in maniera chiara e interessante per un non credente da leggere. Non è dato un non credente, un pezzettino di carta, che sembra carta igienica, con 4 parole, un versetto, eccetera, perché prima di tutto il versetto non lo legge. Il momento che vede Bibbia, il momento che vede lo pilla e lo muta via. Eh? Fate così con la testa, che è vero. Se invece vede un qualcosa del genere, con colori e frasi strane, del tipo Dio non ti giudica, come Dio non ti giudica? No, Dio non ti giudica. Gesù stesso ha detto non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvarlo. È vero o no? Allora Gesù dice la verità e allora vedi che Gesù non ti giudica. Non mi sembra difficile, no? Non mi sembra un concetto teorico. Sì, vabbè, però marchiò il gran trono bianco. Non lascia vedere il gran trono bianco. Gesù ha detto, c'era una spiegazione anche su quello, compra il mio libro, la mena intera e c'è niente. Gesù ha detto non sono venuto per giudicare, sono venuto per salvarti. Adesso scegli. Adesso scegli. Scegli cosa vuoi fare. La scelta è tua, perché l'amore ti lascia libero. Qualsiasi cosa che ti controlla, qualsiasi cosa che ti forza, qualsiasi cosa che ti indirizza, non indirizza, ma che ti spinge, qualsiasi cosa che ti controlla non è amore. L'amore è quella cosa che ti lascia libero di sputare in faccia a colui che ti ama, di insultarlo, di strappargli la barba, di inchiodargli i polsi a un pezzo di delineo, di trafiggergli il costato. E in quel momento, prima di morire, l'amore dice, vale, perdonali. Libero di rinnegare Cristo. Questo è l'amore di Dio. Romani 5,10. Mentre erano ancora Dio, Dio dimostra il suo amore per noi, quanto che mentre erano ancora peccatori, Cristo è morto per noi. No, ma tu devi pentirti, ma qui l'ha detto. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Non chiunque si pente, non chiunque si comporta bene. Ma allora, non mi devo pentire, non sto dicendo questo, non mi metti le parole in bocca. Io sto dicendo che per essere salvato non hai bisogno di fare niente, soltanto di dire Dio aiutami, come ho fatto io. Io non mi sono pentito, perché non sapevo neanche di essere un peccatore. Sai che se tu vai là fuori e parli alla gente di peccato, ti dicono, no, ma io non ho mica fatto niente di... non lo fanno tutti, io non ho mica ammazzato nessuno. Ecco, non lo russa. E poi lo fanno tutti, anzi io sono uno di quelli bravi, e tante cose non le faccio. È vero o no? E quindi in questo libretto finisco con queste parole e dico, questo per evangelizzare, per chiudere grazie per avermi ascoltato. Voglio nuovamente assicurarti che Dio ti ama così come sei, con tutti i tuoi dubbi, mancanze e infrazioni. Tutto ciò che ti chiede è crederci. Quando a poche ore dal suicidio ho chiesto a Dio di aiutare, ho fatto questa preghiera. Dio non so neanche se esisti, ma se ci sei aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiedi. Era lontano 2 febbraio 1982 e oggi sono al sicuro, vivo, appagato e ultra felice. Dici che la mia preghiera ha funzionato? E chiudo con queste parole, perché non la fai anche tu? E vedi poi se effettivamente sei il cristiano che ti dichiara di essere. Sei un seguace di Cristo. Dai quel libretto a un non credente. Questa è una confezione per quella persona speciale che tu hai nel cuore e che vorresti vedere, accettare Cristo. Ecco perché c'è il CD e dentro c'è questo qui e c'è un altro libretto con 28 parabole alla Babbo Mario. Storie semplici, raccontate in modo semplice, ma che ti parlano dell'amore di Dio. Se tu sei effettivamente un seguace di Cristo, una volta che gli hai consegnato quello, fai un passo indietro e ti fidi di Dio. Non continui ad andare a scavare nel vasetto per vedere se il seme sta crescendo. Semini e ti fidi di colui che ha messo la vita in quel seme. Forse non succede subito, probabilmente non succederà nei prossimi cinque giorni. Quasi senz'altro non succederà nei prossimi tre mesi. Ma ci puoi contare. Il seme seminato, guardato da Dio, prima o poi cresce e produce frutti. Chissà, magari ci vorrà una vita. Magari ci vorranno 35 anni, come per me. Io mi ricordo, avevo una zia Amanda che pregava per me, cattolica fino alle gengive. Però vedi, non pensare che i cattolici non conoscono Dio. Ci sono dei cattolici che conoscono Dio più di evangelici. Ci sono degli evangelici che non conoscono Dio. Conoscono il pastore. Conoscono Benin. Conoscono Guglielmo Maldonado. Conoscono... Ma diamo uno. Ci sono dei cattolici che conoscono la Madonna, Padre Pio, ma che conoscono Dio. E ripeto, la chiave per essere salvati non è non conoscere Padre Pio. La chiave per essere salvati è quello di invocare il nome del Signore. Ed ecco perché non giudicare mai nessuno. Diretta Babbo Mario. Non giudicare mai nessuno. Perché il papà non è contento quando altre persone giudicano i suoi figli. Quando Giovanni, l'apostolo dell'amore, del Vangelo di Luca, è andato da Gesù. Quello è il suo predico, eh? Un attimo. Quando Giovanni è andato da Gesù nel Vangelo di Luca, gli ha detto, Signore, Giovanni Siciliano, Signore, abbiamo trovato uno che scacciava i devoli e non fa parte del nostro gruppo. E io gli ho detto di non farlo. E Gesù cambia lui siciliano. Giovannoso. Cosa gli ha detto? Gli ha detto, Signore, non dovevi farlo. Come non dovevo farlo? Questo qui stava scacciando i devoli nel nome di Padre Pio. Questo stava facendo questo con l'incenso e con la borsetta in fiamme e con l'acqua benedetta. E Gesù cosa gli ha detto? No, non dovevi fare. Perché? Perché ci sono solo due gruppi di persone nell'umanità. Quelli con noi e quelli con tu. Pecole e capre. Figli di Adamo e figli di Cristo. figli, servi, spirito, carne, luce, buio. Non c'è nient'altro. Sono due posizioni. O sei in Adamo o sei in Cristo. O sei pro o sei contro. Quindi non lo sai. Tu non lo sai. Paolo dice che nessuno sa le cose dello spirito dell'uomo. Quindi fidati di Babbo Mario. tu vivi la tua vita. Come quando Gesù in Giovanni 21 parla a Pietro e Pietro gli dice signora questo come non morirà mai finché non ritorni. Come sarebbe a dire? Gesù si gira e gli dice Pietrozzo. Cosa ti interessa a te se io ho detto che lui non morirà finché non torna? Tu vivi la tua vita. Che a lui ci penso io. Quindi tu pensa a rispecchiare. l'amore di Dio. Che l'unica cosa che ci chiede di fare. L'unica cosa. L'unica. Non ci chiede di avere gli incontri. Non ci chiede di avere le casse, le luci, la preghiera. No, no. Ci chiede di amarci l'unico gli altri. L'unica cosa. Una cosa ci chiede. E se c'è una cosa che la Chiesa di oggi ancora non fa è amarsi l'unico gli altri. Perché io devo convincerti che hai torto. Se no non sto bene. Ma come marchio in grazia? Ma allora vuol dire che posso fare quello che voglio. Sicuramente amore mio se non fai quello che vuoi, sei un'ipocrita. O no? Se tu fai qualcosa perché un'altra persona ti forza a farlo, sei un'ipocrita. Tu farai sempre quello che vuoi. Anche se ti comporti bene, lo fai perché lo vuoi fare. Ora se lo vuoi fare perché fa bene alla tua vita, perché fa piacere a Dio, perché è giusto, perché fa bene alla tua famiglia, fa bene alla tua salute, fa bene alla tua relazione con la Chiesa, fa bene, benissimo. Ma se lo fai perché se ti viene qualcuno a fare le cose sbagliate e invece si arrabbia e ti dice che sei un peccatore, non sei un'ipocrita. E se c'è un gruppo di persone che ti hanno un tempo, Gesù non è, non è, non è, non è, non è tanto contento. Erano proprio ipocriti. Perché l'ipocrita pensa con il suo comportamento di comprarsi Dio. Quando Dio sa, Pietro Onzo, prima che Gallo canti, c'è il voto, mi avrai rinnegato. Quindi vi immaginate, ed è bellissimo perché nel Maggiore di Luca è la quarta volta che Pietro lo rinnega, solo nel Maggiore di Luca, è quando la Bibbia dice che Gesù si voltò e lo guardò. E io sono convinto, biblicamente, scritturalmente, perché dopo Gesù dice attraverso l'angelo alle donne del sepolcro, andate, dite ai miei discepoli che io gli andrò davanti a loro. San Maria, mi raccomando, ditelo a Pietro, fateli capire che lui fa parte dei miei discepoli, che il fatto che mi ha rinnegato non vuol dire niente. Pietruzzo, lascia stare il gallo, tiragli il collo al gallo, lascia quella cosa che ti ricorda del tuo fallimento, buttala via, distruggila, mandala via una volta per sempre, perché io, Gesù Cristo, non direi che l'ho fallito. Tu sei mio figlio, sei mio discepolo. Io vado davanti a te in San Maria, aspettando che tu arrivi per poterti dire, vai appasciare i miei anni nel libido, vai a portare il mio nome in tutte le parti del mondo, vai a dire a tutti che non dipende da loro, dipende da me. Non ti salvo perché sei bravo, ti salvo perché io sono buono. E tutto quello che devi fare, devi accettare la mia salvezza e basta. Vabbè, potrei predicare ancora tre ore su questo qui. Comunque, giusto, questa era l'entrata. Adesso vorrei farvi vedere velocemente un video di tre minuti dove vedete l'opera che mia moglie e io abbiamo iniziato a Hermanus, un paese quasi in fondo al continente africano, nel 1983 e vedete un centro dove c'è una scuola, dove c'è un centro amministrativo, dove c'è una chiesa e quel centro è un gruppo, una serie di palazzi che abbiamo iniziato a costruire nel 1987 con 700 euro in tasca. Oggi vale circa 4 milioni di euro ed è pagato. la prossima volta che pensate che qualcosa sia impossibile da fare, mandatemi un whatsapp e vi assicuro che con Dio non c'è niente di impossibile. Dio non c'è un po' di più. Grazie a tutti. 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 Gesù è stato puro, 100% genuino, senza nessun additivo né aggiunta di coloranti. Benvenuti al Vangelo della Mela Intera, il messaggio della vita come solo Dio può dare. Questo qui è un libro un po' rivoluzionario perché parla di cose che probabilmente non avete mai sentito. Vi faccio un esempio che faccio un esempio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. peggio per loro, bravo. quindi se tu mangiare un corcetto. leggi, leggi. è venuto per le piccole perdute. la casa di Israele. quando dice ai suoi discepoli, quando dice ai suoi discepoli di andare a predicare il Vangelo, dice andate nelle case, non dei gentili, non entrate nelle case dei gentili, entrate soltanto nelle case delle pecore perdute e nella casa di Israele. Paolo dice quando dice al momento giusto che Dio ha mandato il Vangelo intera, Gesù è venuto per il Vangelo intera, Gesù è venuto per ministrare agli ebrei ed ecco perché in Matteo 5, 6 e 7 Gesù dice delle cose pazze, e non ci passano sopra. la legge è venuto per lei è venuto per le stelle. la legge è venuto per la legge è venuto per le cose per ieri, è venuto per la legge di un'altra cosa. Adesso vi faccio una domanda. Siete sicuri che volete che Dio vi perdoni come voi perdonate gli altri? Siete sicuri di voler chiedere a Dio, perdona me come io perdono quelli che hanno peccato contro di me? Davvero? Davvero volete chiedere? Io dico di no, io non glielo chiedo. Io invece gli dico, perdona me come tu perdoni me. Lascia perdere me perché io non sono capace a perdonare gli altri. Tant'è vero che Paolo sia ai Colossesi che alle Fesini cosa dice? Perdonatevi gli uni gli altri come Dio in Cristo ha già perdonato voi. Ma noi cosa facciamo? Eh no. No ma Marchio, lui non voleva dire quello. Ah ok, non voleva dire quello. Perché tutti i religionisti cosa fanno? Pigliano la legge e la tagliano a fettine. Allora questa qui la teniamo, questa no. Questa mi piace, questa no. Allora non commettere ad ulteriori quella la teniamo perché va bene. Però rispetto al sabato, eh no, perché se accendo la televisione, pecco. E il sabato c'è la partita, io come faccio? Scusa signor, allora uno dei nove, uno dei dieci comandamenti, ce lo dimentichiamo il sabato, lascia perdere. Ce lo controllare le mail, ce lo farei Whatsapp. Il momento che tu accendi la televisione agli occhi di Dio, tu hai lavorato, hai peccato, hai risubito il sabato. Quindi ragazzi, rilassatevi, fate così, uno, due, tre. Dai, uno, due, tre. Ditevi a me, ditevi che bella cosa. È una buona notizia, non è una cattiva, è una buona notizia. E quando Gesù ti dice, ragazzi, volete essere perfetti? Perché io vi dico, se non siete perfetti, in Ciro non ci andate. Leggete la lettera agli ebrei. Capitolo 10, versetto 14, con una sola offerta. Lui ha reso perfetti tutti coloro che lui ha santificato. Voce del verbo, aveva reso perfetto, aver santificato. Passato, fatto, finito, compiuto. Ma queste sono cose che, se non te le dico, chi di voi sapeva che non doveva ibergare il Padre nostro? Nessuno, non so. Perché non aveva mai detto il suo, tu lo sapevi. Ho visto una sua cosa, la tua casa. Hai visto il mio video? Ma hai capito che il 99% forse dei cristiani chiedono a Dio, perdona me come io perdono a quel disgraziato che mi ha tagliato la strada in macchina o a zio Peppino che si è fregato dalle verità o a zia Carolina che mi picchiava quando ero piccolino o all'amico di papà che mi violentava. Come io perdono gli altri, tu perdona me. Ma siamo impazziti. Siamo impazziti. E Gesù ti sta cercando, sta cercando di farti capire che senza l'intervento di Cristo non ce la farai mai. Ti mette davanti questo Everest, questa montagna che si chiama Legge e ti dice, ok, scalala. E tu gli dici, non posso. Ok, ti ci porto io, vieni con me. Io sono stato accusato di dire che la santificazione è una scala mobile. Non hai bisogno di salire su una scala. No, amore mio, la santificazione non è una scala mobile. La santificazione è un istante. Il momento che io accetto Cristo sono stato santificato in Cristo. Una volta, per sempre. No, no, Marchiova, la Bibbia dice che gli obosessuali, i traditori, i cosi, i pedofili, questi o gli altri, non entreranno nel regno di Dio. Giusto? Ma leggi il versetto dopo, 1 Corinti 6, 11. Paolo dice, e tali eravate alcuni di voi, ma adesso siete stati lavati, siete stati salvati, siete stati santificati dallo Spirito di Dio, punto e basta. Lo eravate, ma adesso non lo siete più. Siete stati santificati. L'opera di Cristo è totale, completa, istantanea, copre l'eternità, dall'inizio alla fine. Ok, adesso l'ultima cosa poi prendo. No, non scherzo, me li date un altro dieci minuti. Io sono venuto da lontano. Volevo leggervi quello che io penso sia... Ah, questi qua sono dei corsi video sulla liberazione della grazia. Quindi tutte le leggi basilari, le regole basilari della liberazione della grazia. Se volete far cascare le catene del religionismo una volta per sempre, questi corsi, ne è rimasto uno solo, tutti e cinque, gli altri sono individuali, sono cinque corsi, 58 video, più di quattro ore di insegnamento. Ma chi si ricorda dove Paolo dice che il peccato si è risvegliato e io sono morto... Romani 7 Voglio leggervi soltanto la differenza di come ho scritto ho riinterpretato le lettere di Paolo. Perché? Perché Paolo è quello che ha inventato l'ipergrazia. Romani 5.20 Lui dice dove il peccato abbonda la grazia è sovrabbonda. Nel greco originale il greco originale dice caris iperperiseo ipercaris caris e grazia ipergrazia l'ha inventato a Paolo non mai cobrano. Ed è un concetto biblico. Dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda. Iperbondite sopra al di là superiore il peccato non potrà mai raggiungere la grazia perché dove il peccato abbonda la grazia, la ipergrazia sovrabbonda. Questo è quello che dice e allora ho rienterpretato le lettere di Paolo per mettermi in mano una Bibbia che possiate leggere allegramente alla luce della grazia. Ecco perché si chiama L-I-B-M l'annuncio libera interpretazione di Babo Mario. Ok, questo è quello che dice cos'è questa? Nuova traduzione accurata e moderna. Vediamo come dice moderna. dice Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge. Perché non avrei mai conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ok, io l'ho messa così. Ora, non venite a dire che se le cose stanno così non c'è differenza tra legge e trasgressione. E' come se c'è. La legge è come un segnale stradale che indica la via per il peccato. Un catalizzatore che facilita la manifestazione della trasgressione senza la chiarezza con la quale la legge identifica il peccato e la trasgressione. Tutto rimarrebbe nel dubbio. Se non ci fosse stato chiaro il comandamento non desiderare le cose degli altri io avrei potuto senz'altro mascherare la mia concupiscenza con una giustificazione qualsiasi e rovinarmi la vita. Il comandamento ha messo in moto il peccato attirandomi ai piedi dell'albero della conoscenza del bene e del male. Tutto un tratto mi sono trovato in mano il frutto proibito. Proibito da cosa? Alla legge. La legge ha svegliato il cam che dorme. Quello mi ha visto mi ha inseguito e mi ha zannato la gola. Pensate a un bambino non ha alcuna colpa fino al momento in cui si rende conto coscientemente che ciò che vuole fare è vietato e lo fa lo stesso. In quel momento il suo spirito muore e la storia di Adamo si ripete un'ennesima volta. Quello che doveva essere portatore di vita è stato invece causa di morte. La legge è giusta i comandamenti sono giusti buoni e validi e quello che ci faccio io con quella legge e con quei comandamenti che crea il problema. Quindi come vedete è un modo di presentare la Bibbia e di leggerla che io vi assicuro ho cominciato a leggere e non la mettete giù vi fa piacere leggere la Bibbia si chiama l'annuncio ed è là. Ok ho finito il carosello adesso predichiamo. Giovanni capitolo 5 siccome i Vangeli ancora non li ho fatti non posso leggere dalla versione l'annuncio. Giovanni capitolo 5 là c'era un uomo che da 38 anni era inferno Gesù venuto lo che ciaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così gli disse puoi guarire? L'inferno gli rispose il Signore io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nell'Alaska e mentre ci vengo io un altro mi scende prima di me. nella tradizione nella tradizione originale quel mentre scendo io dovrebbe essere tradotto mentre io provo a scendere un altro arriva prima di me. Posso chiedervi di fare una cosa che non faccio mai ma guardate una persona che ve è simpatica e ditegli questo credimi ci sto provando dai guardate qualcuno ditele credimi ci sto provando 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 per 38 anni noi conosciamo la storia questo si chiama la piscina di Bethesda Bethesda è la è la parola ebraica che 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 è composta da bet che vuol dire casa e chesed che vuol dire grazia Bethesda è casa della grazia ed è strano che ha cinque portici cinque numero della grazia quindi è un posto dove la grazia regna e Gesù arriva e la Bibbia dice stava andando vabbè stava andando una festa a Gerusalemme leggiamolo veloce dai velocissimo leggiamolo velocissimo e dice questo Giovanni 5 dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme ora a Gerusalemme presso la porta delle pecore c'è una vasca chiamata in ebraico Bethesda che ha cinque portici sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi di ciechi di zoppi di paralitici i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca e agitava l'acqua e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse capito là c'era un uomo che da 38 anni era infermo Gesù vedendolo che già c'era e sapendo che già da lungo tempo stava così gli disse vuoi guarire? l'infermo gli rispose signore non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre prova ad andarci un altro vi scende prima di me Gesù gli disse alzati prendi il tuo lettuccio e cammina in quell'istante quell'uomo fu guarito e prese il suo lettuccio e si mise a camminare quel giorno era un sabato oh cosa succede? succede che Gesù c'è una festa con i suoi discepoli sta andando alla festa tutto un tratto si ferma e vede te nel suo cuore vede te che hai bisogno di lui e non va alla festa si ferma e dice ai ragazzi scusatemi un attimo devo andare a trovare una persona che ha bisogno di me una persona che non gli ha chiesto niente una persona che non si meritava che lui andasse perché quando i farisei gli chiedono chi ti ha guarito lui dice non lo so non conosceva neanche Gesù questo per distruggere un attimo è un religionismo che Gesù parla soltanto a quelli che se lo meritano a quelli che glielo chiedono a quelli che si comportano bene a quelli che profumano di profumo di rosa a quelli che non puzzano mai a quelli che eh ditelo al padre del figlio prodigo quando è tornato a casa il figlio prodigo carico di porcetto il padre gli ha corso addosso e se l'ha abbracciato se l'ha abbracciato perché? perché il tuo peccato non fa paura a Dio e quindi Gesù sta andando a questa festa tutto il tratto si ferma c'è qualcuno che ha bisogno di me voi andate pure avanti adesso arrivo e scende in questa piscina siete mai stati in Israele? c'è nessuno che è stato in Israele? nessuno? ok a Israele c'è questa piscina che si chiama Bethesda che non è una piscina dove ti portano il bicchierino con un brellino sopra è la fetta di Anamans ok è una piscina che è una decina di metri profonda con queste vasche in fondo e questi cinque portici a fianco dove lì si radunavano tutti questi malati e l'idea era che a un certo momento arrivava un angelo dal cielo e smuoveva l'acqua e il primo che arrivava quando l'acqua si muove veniva guarito quindi vi immaginate c'erano ciechi c'erano zoppi c'erano paralitici quelli che non sarebbero mai riusciti ad arrivare chiedono i paralitici perché il cieco ancora ancora lo zoppo ancora ancora ma il paralitico anche se anche se riusciva in qualche modo ad arrivare vicino alla piscina qualcuno senza altro lo pigliava tu ritorna là e qui ci sto io ti diciamo ma che pazzia no 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 amore mio ancora oggi ancora oggi stai aspettando che l'angelo arrivi e scuola l'acqua stai aspettando che arrivi che arrivi l'apostolo dal dal Messico o l'evangelista dall'America quel che sei lì da 38 anni 38 anni che stai aspettando una risposta 38 anni che stai pregando per tuo marito 38 anni che stai aspettando che i tuoi figli in qualche modo mettano la testa a posto 38 anni che speri che quella malattia che ti è stata diagnosticata se ne possa andare 38 anni che ne hai viste di tutte e di più sono venuti ciallatani hanno cercato di venderti l'acqua santa ti hanno detto guarda dammi 50 euro e come arriva l'angelo ti assicuro ti piglio e ti porto io dopo mi puoi dare il resto ma intanto cominci a darmi 50 euro e sono arrivati i ciallatani sono arrivati di tutto sono arrivati gli imbroglioni sono arrivati immaginate quest'uomo 38 anni quanti anni aveva Gesù quando questo è successo 33 questo qui era rimasto paralizzato e ricordatevi una cosa che non c'erano servizi pubblici non voglio che vi soffermiate troppo a lungo su questa idea ma un paralitico che per 38 anni è rimasto fermo molto probabilmente si trova in un mare di di cose non troppo carine ed è poco che ci troviamo noi anche se non la vediamo e tutto intorno a noi e per 38 anni quest'uomo aspettava che il sistema lo salvasse ed ecco perché Gesù arriva e gli dice vuoi essere guarito perché prima di guarirti le gambe devo guarire il cuore finché tu credi nell'angelo che scende e scuota l'acqua finché tu credi che deve venire l'apostolo da l'angelista da finché credi che un altro uomo deve imporre le mani su di te finché credi che devi digiunare o devi pregare non fraintendetemi non c'è niente di sbagliato nel digiunare nel pregare sto dicendo che quello non ti conquista l'amore di Dio non è quello che tu fai che muove la mano di Dio l'unica cosa che muove la mano di Dio è l'amore di Dio che ha per te quello muove la mano di Dio ma come fai a Dio facile guarda non è quello che fai che muove la mano di Dio è l'amore di Dio che muove la mano di Dio perché questo qui non aveva un grammo di fede anzi aveva la fede negativa perché quando Gesù gli ha detto puoi essere guarito gli ha detto no guarda che non hai capito niente qui non funziona come voi rabbini pensate qui noi aspettiamo che scenda un angelo e quando scende l'angelo noi paghiamo qualcuno per portarci nell'acqua e tu mi sembri un po' mingherlino mi sa che non ce la fai a portarmi nell'acqua quindi grazie grazie del tuo interessamento ma no non importa grazie quindi questa era la fede di quest'uomo quando tu pensi e non sto dicendo che non devi avere fede sto dicendo che la fede non muove la mano di Dio è l'amore di Dio che muove la mano di Dio smettila di pensare che sei tu a dover fare qualcosa il religionismo mette la gloria su di te tu credi tu previ tu paghi tu fai tu segui tu pedisci tu fai sei sempre tu non è mai lui sono stato guarito perché ho creduto no sei stato guarito perché Dio ti ama amè e poi chiaramente la profeta ha incanalato quell'amore in una certa direzione o in un'altra ma stai a sentire è Cristo Gesù cento per cento Gesù non lasciare che tu non pensare mai che tu puoi aggiungere qualcosa all'amore di Dio non pensare mai che tu puoi fare qualcosa che smuove Dio Dio si è smosso duemila anni fa sulla croce del Calvario ha versato l'ultima goccia del suo sangue perché e ha guardato e ha detto hai bisogno del mio perdono mentre eri ancora un peccatore mentre non te lo meritavi mentre non credevi mentre non avevi un grammo di fede Cristo è morto per te quello è il nostro Dio Gesù gli si avvicina e gli dice prima di guarire le tue gambe devo guarire il tuo modo di pensare la tua fiducia è nel sistema e sono 38 anni che credi nel sistema e il sistema non funziona ma non voi solo quelli di sesto c'è nessuno di sesto no gloria a Dio perché andiamo avanti andiamo avanti 38 anni 38 anni si sta smuovendo l'acqua si sta smuovendo l'acqua 38 anni che andiamo avanti all'altare arriva questo e mi poni le mani in prega alleluia ok tiravo su tiravo su la settimana dopo arriva l'altro chi ha bisogno di preghiere? 38 anni perché la tua fiducia nel sistema Gesù ti dice vuoi essere guarito prima di guarirti le gambe devo guarirti la testa la tua storia ti blocca ti incatena sono 38 anni non ci credi più pensi di crederci ma non ci credi più il prossimo che arriva vai meccanicamente vai perché è quello che devi fare ma dentro di te è scattato qualcosa 38 anni è scattato qualcosa che dice anche quando si muove si muove l'acqua intanto e Gesù ti guarda stasera e ti dice non ti devi fidare del sistema ti devi fidare di me ma allora non devo pregare non ho detto questo prega ma non ti fidare della tua preghiera fidati di me fidati di me fidati di un Dio che ha dato la sua vita per te non ti ha chiesto niente niente non ti ha chiesto di crederci non ti ha chiesto di pregare non ti ha chiesto di fare niente prima ha pagato il tuo debito e poi ha fatto un passo indietro e ha detto adesso se vuoi sei libero e quel Dio pensi che voglia che tu aspetti di muoversi dell'acqua e possono essere 38 anni possono essere 38 giorni possono essere 38 minuti ma Babbo Mario stasera è venuto a dirti fidati di Cristo non fidarti del sistema fidati di Cristo e quando ti fidi di Cristo entri in quella potenza che si chiama riposo dove tutto un tratto tu come Paolo dice ho imparato ad essere contento papà mi piacerebbe se fosse possibile sarei molto felice ma sai una cosa che tu dica sì che tu dica no o che tu dica non adesso mi fido di te e tu non hai idea se io ti dico quanto prego per me probabilmente mai come Marchion non prego per te no sai perché? perché mi fido di Cristo quando sei convinto del suo amore quando sei al sicuro nelle sue braccia quando guardi la sua faccia e lo vedi sorridere io l'altra sera ho perso gli occhiali e per grazia di Dio non perdo mai niente quindi mi sono cavolato ma come ho perso gli occhiali ma non ho perso gli occhiali come ho perso gli occhiali non ho perso gli occhiali e ho detto ho detto soltanto ho detto signore perdonami per la mia stupidità se ho perso gli occhiali ma non vorrei aver perso gli occhiali non ho fatto scicca la mamma non mi dice solo ti comando di portarmi gli occhiali diavolo lascia andare i miei occhiali e non mi dice su a me no ho detto perdonami se sono stato stupido da buttare gli occhiali a qualche parte che non mi ricordo dove l'ho messo scusa aiutami a ritrovarli ieri notte dormo e sogno e vedo gli occhiali sotto il cassettone di Daniela in camera da lei stamattina mi alzo vado lì guardo lì sotto buio come una peste prendo il telefonino accendo la luce bababam occhiali ho creduto ho creduto in Cristo mi sono fidato e sapete una cosa se non li avessi trovati va bene lo stesso perché la mia fiducia in Cristo non è il risultato delle mie preghiere e quando tu entri in quella dinamica tu vedi cose che succedono automaticamente che non ci credi non è che non ci credi non è sbagliato ti rimani rimani scioccato rimani ma come non te lo neanche chiesto gloria a Dio guarda questo succede quello succede quello succede tutto un tratto le cose avvengono automaticamente vuoi essere guarito fidati di me non ti fidare del sistema fidati di me fidati del mio amore e adesso posso scioccarli posso già vi ho fatto saltare un paio di circuiti siete pronti a essere scioccati sì Gesù gli dice piglia tua lettuccia e cammina il problema è che era risato quindi Gesù dice al paralitico ti subitisci la legge e ora come la mettiamo se non prendi Cristo e lo metti sopra la legge sopra la tua obbedienza sopra la tua devozione sopra tutto quello che tu puoi contribuire se non prendi Cristo e lo metti al di sopra sei fatto sei conto perché Gesù ha detto al paralitico prendi il lettino e disubilisci al comandamento del sabato perché il sabato è stato creato per l'uomo non l'uomo per il sabato tutto quello che Dio ti dice di fare è per il tuo bene e se per il tuo bene non fraintenderemi non mettete parole che non dico ma vi ho dato la prova biblica che Gesù ha detto a quell'uomo disubilisci la legge se per il tuo bene Dio dovesse dire disubilisci la legge la legge è stata creata per il tuo bene non tu per la legge al di sopra della legge c'è l'amore di Dio adesso non andate a cercare scuse per ah me l'ha detto Dio che devo fare questo questo no quelle sono scemate quello che sto dicendo è che l'amore di Dio sopra sopra cosa sopra valica sopra sopra cosa tutto quanto anche la sua legge e la prova biblica è quella Gesù gli ha detto prendi il tuo cosa tu c'è cammina al punto che i farisei volevano ucciderlo volevano uccidere Gesù e immaginate il paralitico l'unica cosa che ha fatto ci ha creduto immaginate se il paralitico avessi detto scusa guarda che non hai capito bene paralitico non posso alzarmi e camminare c'è un momento in cui tu devi decidere di chi ti fichi di te delle tue circostanze delle tue opere buone del tuo pregare del tuo digiuno o della semplice parola di Dio che dice ti amo ti salverò ti aiuterò porterò a casa tuo marito porterò a casa i tuoi figli salverò la tua famiglia e quella è l'unica decisione che devi prendere se ti fidi di lui no e se ti fidi di lui figati di lui se dice no dice no no ma ma chiò Dio non dice mai di no ah o era Gesù nel giardino anche insieme di cosa le ha detto no ah ma papà se c'è un altro modo per poter bere questo calice Dio ha detto no non c'è devi passare attraverso quello che ho preparato per te e ringraziamo il Dio che tutta la sofferenza tutto il dolore tutta la solitudine tutta la tristezza tutta la miseria ha passato a Cristo su quella croce e a noi non resta altro che dire sono qui Signore pronto a ricevere tutte le tue benedizioni Amen io ho ancora sette ore di predica da fare ma voglio alzarsi spero di avervi sconvolto abbastanza da creare una reazione la prossima volta che Gesù viene e dice vuoi essere guarito non ti fidare del sistema fidati di Dio fidati di Gesù fidati di colui che ti ha valutato così enormemente da mettere la sua vita sul piatto della bilancia e la tua e la tua sull'altro non sei tu che devi attaccarti alla salvezza e tenere saldo è lui che ti prende e ti tiene nella sua mano e dice nessuno potrà mai toglierti dalla mia mano Amen amén Grazie.